C'eravamo lasciati bitonci sul fatto che l'incrocio con le elezioni regionali ha reso questo passaggio un cor più complicato. Mi ha legato anche il fatto che ormai c'è un'elezione regionale ogni mese, quindi qualsiasi fatto e qualsiasi cosa che succede diventa ovviamente poi si ribalta sulle campagne elettorali regionali che sono diventate delle campagne non più a livello amministrativo ma politiche, è successo così in Umbria, è successo così in Emilia Romagna, però tornando indietro un attimo alle dichiarazioni che sono state fatte da Di Maio, dai vari leader, in realtà quello che è successo è qualcosa di estremamente anche chiaro, io non capisco le critiche di queste ore e di questi giorni perché il 19 di dicembre la stessa giunta all'unanimità aveva deciso di chiudere con un verdetto entro un mese e quindi 30 giorni si arrivava esattamente a domenica e quindi a lunedì, quindi a ieri. Quindi la scelta della maggioranza di non partecipare, questo secondo me è stato secondo noi un grande autogol e soprattutto queste scuse di questi giorni e dire che non è stata data la documentazione, ma se è un mese che l'intera maggioranza dal PD a Italia Viva anche con le proprie dichiarazioni da parte del loro leader Renzi e anche Di Maio ha continuato a ripetere che comunque avrebbero votato a favore dell'autorizzazione a procedere, insomma la documentazione era estremamente chiara, il fatto è che si voleva spostare e lo sanno e lo sanno chi ci ascolta l'ha capito chiaramente, che si voleva spostare di una settimana per andare oltre le elezioni regionali perché effettivamente anche questo fatto che è un fatto politico importante è estremamente grave perché mandare a processo un ministro che ha fatto ministro e ha portato avanti quella che era la politica del governo dei porti chiusi, quello che io ribadisco e ribalto poi alla maggioranza, non capisco perché si vuole attaccare un ministro che ha fatto il proprio dovere secondo una linea politica estremamente chiara, se la maggioranza ha deciso di cambiare la linea politica sull'immigrazione faccia la propria politica sull'immigrazione, cosa che non è successo perché abbiamo visto che durante le elezioni dell'Umbria l'Umbria, il ministro Lamorgese ha tenuto un barcone, una barca nelle stesse condizioni per alcuni giorni all'argo perché c'erano le elezioni in Umbria. Quando si parla di violenza della Lega nei messaggi, poi in realtà anche le manifestazioni fatte a Bologna, nelle altre città, invito migliore a guardare anche quello che è successo in questo mese e mezzo, tutte le serate, tutte le partecipazioni che ci sono state di Salvini e la Bologna nelle piazze hanno riempito le piazze dell'Emilia Romagna e sono state estremamente pacifiche, non preoccuparti, molto più pacifiche di quelle delle Sardine dove il late motive è stato sempre Salvini, Bologna non si lega, Salvini a testa in giù e tutte queste cose, ci sono state anche cose di questo tipo sui social da parte anche di rappresentanti delle Salvini, però non abbiamo mai raccontato cometti di questo tipo in piazze. Comunque contro la figura di Matteo Salvini, mi pare una cosa estremamente chiara. Contro il decreto di sicurezza, non contro la persona. Non ti ho interrotto prima, hai parlato un quarto d'ora, non ti ho interrotto, ecco se mi lasci fare una considerazione su Bonaccini, visto che, ecco, ma bisogna chiedersi una cosa che secondo me è fondamentale, e fra poco c'è l'elezione anche in Veneto, no? In Veneto non è assolutamente, non si ripropone la stessa situazione dell'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna è sempre stata una regione a trazione centrosinistra, dove non si metteva minimamente in dubbio che ci potesse essere una contesa elettorale tra il centrodestra e la sinistra e centrosinistra, cosa che in Veneto... Quindi vi chiedete perché è successo questo, cioè gli emiliani sono così contenti di Bonaccini della sua gestione, della sanità, di quello che sta succedendo in Emilia Romagna, del tema importante e fondamentale legate al cooperativismo, all'associazionismo. Sono così contenti di Bonaccini e quindi andando a guardare i sondaggi invece vediamo che la Lega centrodestra sta crescendo e c'è una contesa di probabilmente qualche voto. Vi domandate il perché? Sono così contenti gli elettori di Emilia Romagna. E perché ti faccio questo? Perché in Veneto questa cosa non si ripropone. Sì, ma lei è esperto perché lei ha perso le elezioni. Diciamo, lei è un esperto perché da sindaco scede ha perso, no? Scusami, i Veneti sono contenti, i Veneti voteranno, te lo dico prima, voteranno alla stragrande, la lista Zaia, la Lega e il centrodestra. Ma siccome lei è un esperto perché ha perso, ognuna delle elezioni ha una storia. Siccome l'Emilia Romagna è rimasta l'unica roccaforte del centro-sinistra. Ma io sono per la democrazia, non per le roccaforte. E' una regione dove capiremo il risultato tra qualche giorno, ma si parla, come diceva prima il professore, di un'incollatura di voti. Vuol dire che il Presidente non ha governato così bene come voi continuate a ripetere. Perché dove i Presidenti governano bene, come in Lombardia e come in Veneto, la ricandidatura e l'elezione diventa una passeggiata e praticamente scontata. Vuol dire che questo grande lavoro fatto dal Presidente e dall'amministrazione della Giunta non è stato un lavoro condiviso dagli Emiliano Romagnoli. La democrazia prevede che decidano gli elettori. Dalle lamentere che ci sono negli ospedali, dalla politica sanitaria fatta dal Presidente. Cioè la migliore politica sanitaria d'Italia. Non è la migliore. La migliore è quella del Veneto. La migliore è quella del Veneto e la Lombardia. Primo il Veneto, secondo la Lombardia. Non è la migliore. Vi chiedo scusa, professore, torniamo sull'ultimo elemento politico. Perché la discussione sulle tasse, ecco, che sia chiaro. Velocemente. Allora, Vito Oncio. Quando il Presidente va a dire alla Borgonzoni che non si può tagliare l'addizionale IRPEF, va bene, non la racconta giusta, perché in Veneto sappiamo che c'è una quota fissa di carattere statale, lo sanno tutti, che c'è una quota fissa di carattere statale, ma in Emilia Romagna c'è la quota aggiuntiva, quella che non c'è in Veneto. E magari se in Veneto gli elettori vengono dai, è perché non c'è un miliardo in più l'addizionale IRPEF. Possibile che le leggi elettorali siano sempre legate a quelle che sono, in qualche modo, le convenienze, la contingenza politica. Ma questa è una cosa tipicamente italiana che non succede in Inghilterra e in altri stati, dove ogni legislatura si modifica la legge elettorale. Questo non dovrebbe essere assolutamente possibile, magari fatto attraverso altre maggioranze, ma la legge elettorale deve rimanere costante, perché poi alla fine abbiamo anche capito che poi chi fa la legge elettorale deve viene colpito dalla stessa legge elettorale che ha fatto, quindi non è che ci sia un nesso così diretto, casuale. Io continuo a ripetere da anni una cosa, che forse la legge elettorale migliore, ne parlava anni fa anche Renzi, è quella legge dei sindaci. Cioè quando c'è stata la modifica della normativa del testo unico e sulla elezione diretta del sindaco è cambiata la stabilità dei consigli comunali, c'è poco da dire. Cioè nel senso si elegge un sindaco, si elegge un consiglio comunale e sono consigli comunali stabili. Cioè ritornare a un sistema ancora proporzionale che permette ai piccoli movimenti e partiti di essere fondamentali per la formazione di un governo, mi pare, come dice Matteo Salvini, insomma tornare indietro assolutamente i vent'anni migliori.